La farmacia non è un negozio qualunque, tanto che alla classica vendita di farmaci spesso si aggiungono servizi sanitari. Sicuramente a Corbetta, dove la farmacia comunale rimane aperta H24 365 giorni all'anno e offre diversi servizi alla cittadinanza, molti a titolo gratuito. Noi siamo aperti H24 tutto l'anno, festivi compresi. Svolgiamo diversi servizi all'interno di questa farmacia, dalla telemedicina ai servizi di prima necessità al cittadino, misurazione della glicemia, della pressione, completamente gratuiti. Ogni mese organizziamo qualche giornata promozionale, come quella che abbiamo organizzato per la misurazione della glicemia, completamente gratuita. Abbiamo avuto circa 600 persone che sono venute a misurare la glicemia la mattina. Siamo considerati un punto di riferimento per tutto il territorio. Il 30 maggio è una giornata sulla postura e l'utilizzo di plantari proprio durante la giornata per aiutare il non affaticamento della colonna vertebrale.